Ciao, ciao, da casa la mia vita, oggi siamo arrivati tutti in terra che hanno fatto il gattone peppa Sì, e con chi sei? Con un uomo, mamma, mamma Pappele Eccolo Sì, min Cos'è, tutta la famiglia questa Nikita? Sì, ma che ragione! Non è che siete diventati grandi e guardate meno adesso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no chita cosa fai quando fai il baby seat li passi qua a tutti i tuoi amichetti piccoli eh non abito capo eh va bene sto qua ancora 6 giorni 6 giorni? allora è bello questo mondo di Peppa Pig per i più piccoli è abbastanza come abbastanza è più bello questo o quello dell'Olandia? l'Olandia, questo dai guarda com'è grande questo qua ci ha dato l'allora di chita adesso avevamo fatto questo qua per i più piccoli e adesso facciamo quello per i più grandi ciao ciao mettete like e iscrivetevi a tutti i canali di chita ciao a tutti per neonati e che non ti piace invece guarda vai in tutte le giostrine queste sono le gioste per i grandi bene ok ün姐 vediamo il prossimo potenza adesso sono scivolate le imprese oooh ah 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 ah